Benvenuti a tutti nel video della BIG FAMILY Ciao a tutti i big amici e benvenuti in un nuovo video della BIG FAMILY Allora ragazzi Io sono triste perchè non lo provo, dopo che non lo provo non mi ha portato l'abberino Oh ma ti sei prearrabbiata quando iniziamo a fare il video? Si! Non mi ha portato l'abberino, non lo provo Guarda che ho mangiato il biscotto con il cioccolato e c'hai i dentini marroni E c'hai il cioccolato sui dentini Dai amore che schifo Vabbè comunque ragazzi Niente Abbiamo la casellina 6 del calendario Siamo al giorno numero 6 Ci avviciniamo alla giornata di Natale E alla vigilia di Natale Alla vigilia di Natale Che poi la notte arriva Babbo e Natale Eccolo Qua Allora il numero 6 no te lo dice la mamma Questo amore Apre la sera No, 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 è lì, è lì, è lì, è lì, è lì, amore, il tuo è qua, è qua il tuo, guardate quello di Giulia che l'ha aperto, il cesto cioccolatino, allora, niente, è una nocciolina quella, ci è stampata una nocciolina, cosa fai? Dai su, mangialo, 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 così diciamo subito il video che faremo, niente, oggi abbiamo deciso di imitare, sarà un video molto divertente, no, non lo sai, amore, abbiamo deciso di imitare le facce, in pratica faremo, come si dice? Ehm, imita le facce, challenge, con ciò staremo a vedere, e ragazzi, mi raccomando, voi da casa che ci guardate, dovete votare chi è stato più bravo a imitare la faccia? Fra noi, ok? Ok, sto sentendo tutto, sì, allora, fatto, allora, dai, iniziamo, imita le facce, challenge, vai, Aspetta, ok? No, metti via, basta, 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 metti via, metti via, metti via, metti via, dai, saluto, anche Giulia. E voi l'avete imparato, il nostro salutone? Se ancora non l'avete imparato, mi raccomando, imparatelo ora, ora, e facelo tutto. Ecco, anche Giulia vuole farlo. Ma non mi raccomando. Niente, dai, iniziamo, 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 allora, prima faccia, ragazzi, iniziamo con la prima faccia. Tocco io. Tocco io. Ah, beh, dai, è facile, oh. Ma, ci proviamo. Ne ho scelto una facile. Fagliela vedere qua, Giulia. Giulia, guarda. Ragazzi, provate a farla anche voi, mentre ci guardate a noi. Ti do a pulire. Come fa la signora, come fa? Fallo vedere. Chi la fa mai la faccia, ragazzi? Mamma, guarda. Mi metto la sottola con me. 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 Fallo a tu, come la faceva Giulia, vediamo. Guarda questa faccia. Come la fai tu? Guardate Giulia, eh. Giulia, fai vedere. Non è la viva di fuori. Fa così. Vabbè, comunque, più o meno. Guarda, guarda. Ma te lo dico me. Dai, vai. Prossima faccia. Prossima faccia. Prossima faccia. Prossima faccia. E' questa. Nooo. Questa faccia no. Fai bene? Oh, mamma mia. Giulia, guarda. Io già mi mi chiesti di mare. Mamma, mamma. Mamma, mamma. Vabbè, c'è capire la lista. Mamma, mamma. Come fa? Mamma, 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 mamma. Mamma, mamma, mamma. Mamma, mamma. Mamma, mamma, mamma. Mamma, 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 mamma. Vabbè, non siamo noi a votare, ma saranno loro a votare. Vediamo quella di Giulia. Certo che c'hai un pacchetto strano le vecchie tu. Fai vedere, amore? Guardate che brava Giulia. Allora passiamo alla prossima faccia Vai Sere Questa qua Aspetta aspetta 3, 2, 1 Via Dai stai a vedere Prima la guardiamo noi e facciamo la faccia Ok Poi mentre facciamo la faccia Mettiamo così e io la facciamo vedere Vedo di là Basta basta Perché non mi rimangono le affistate Vabbè comunque Io non vedevo neanche perché quando mettevo gli occhi così No così amore Che dava il bacino Come se dava il bacino qui Anche l'ore vuole il bacino Anche l'ore dice Allora dai Alta faccia qual è? Una faccia Cos'è semplice? Vabbica tanto eh Quella fai vedere C'ha il piercing Noi non abbiamo il piercing Allora sei pronta? 3, 2, 1 Dammi che io faccio vedere ieri No Se lo fassi col braccio davanti 3, 2, 1 3, 2, 1 Via Aspetta E io riesco a fare così Sì sì Ma mi vedo ma io non vedo niente quando mettevo il sforzo Io vedo tutto sfocato Guarda amore Cioè io vedo doppio Doppio sfocato Se puoi guardarli in giù Non in giù Ma Vabbè comunque Ci abbiamo provato Guardate Guardate Vediamo Giulia Ancora lì baccia di fuori Brava Questa faccia è bellissima Allora Un po' di più ci deve fare E' acqua arrabbiato Trova tutto Aspetta Vediamo Giulia come fa Guardate Sei immobile Allora Ragazzi Vi raccomando Se volete Provateci anche voi Che così E' molto divertente Ci teniamo a compagnare E come ce lo facciamo a te Bravissima Bravissima E spolliciate Diggielo Se questo video Vi sta continuando a piacere E spolliciate E' l'altro video Brava amore E' quello che ti hanno dato da Babbo Natale Sì sì Tutti vi devono vedere I nostri bigamici Passiamo alla prossima faccia La prima faccia è più arrabbiata di quella di prima Vediamo Con la saliva No che schifo Non l'ho vista Vabbè noi non lo facciamo con la saliva Lo facciamo solo una faccia E una bimba piccola Per quello Dai puoi vedere E facciamo la faccia Vediamo Vediamo Il bimbo pazzo Il bimbo pazzo Il bimbo pazzo E' un bimbo piccolo amore Allora Passiamo All'altra faccia E' uno di un cartone animato Ah va bene Dai anche Se io ti dico Hakuna Matata Ma che dolce poesia Che film Disney ti viene in mente Hakuna Matata Tutta frenesia Che film Disney tie Quindi Caldala Eh Eh Ecco qua No lui lo fa dall'altra No aspetta Dall'altra parte Abbiamo Abbiamo Vi faccio snorre Guardate 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 me Guardate 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 me è di là carica sembrava delle delle paralisi guardate sembra che abbiamo una paralisi in faccia guardate non è che guarda di qua allora prossima foto prossima foto quella che verrà dopo non questa quella che verrà dopo sarà molto molto difficile potete rimanere con me perché le ho scelte io le vo infatti le sta scegliendo serena le foto però non è giusto che le scegli tu tutte tu va bene dai scegliere tu 3,2,1 aladdin aladdin c'è ci dovremmo mettere con me lui no se lo faccio guardate me guardate me guardate me guardate me guardate me guardate 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 me guardate me guardate me allora passiamo all'altro video all'altro che c'è amore che c'è vuoi il telefono lori per quale fa così gne 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 allora dai facciamo passare la faccia e com'è quella faccia che c'è che c'è un po' così allora non è così non so per quello te l'ho detto che è un po' di festa non è l'altro papà 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 devi devi prendere tu hai alto pimenta le calze rosse non è non è da Michele facciano poco boh beh secondo me la mia ha vinto allora secondo te chi è stata più brava a evitare le facce tu io io ma io ma io ma mamma Joe è stata più brava va bene no Giulia è stata più brava Giulia è stata più brava è vero va bene ragazzi dite voi chi è stato più bravo mamma Joe o Serena o io o Giulia anche allora Giulietta o Giulietta allora ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando spero che avete fatto anche le facce anche voi mi sarebbe piaciuto tantissimo vedervi vedete le facce ragazzi facciamo una cosa voi adesso fatevi una foto con una di queste facce che abbiamo fatto noi caricate la non lo so su Instagram su YouTube della Semi Unity no no Twitter su TikTok dove volete e mi raccomando taggateci taggateci così noi andiamo a vedere e vi mettiamo i like mi raccomando allora niente se questo video vi è piaciuto spolliciate iscrivetevi al canale perché non sia iscritto attivate la campanellina per non perdere nessuna nostra avventura e disavventura commentate come vedete seguite come quella di oggi che abbiamo fatto le facce strane si come quella di oggi che abbiamo fatto le facce strane un po' buffe non è vero amore commentate come vedete seguiteci i social Instagram TikTok e Facebook e noi ci vediamo domani con un prossimo video della Big Family ciao big amici dai facciamo una faccia strana a casa nostra ciao ciao